Ciao a tutti amici bentornati su Bannerlord siamo alle ultime puntate perché oggi si va a castel granito a distruggere il nemico il Mannister che fino a morno sono rotti i coglioni adesso è giunto il momento della nostra vendetta gregon krein è morto da Nelly si sta parlando da me ma non verrà spero perché deve difendere assolutamente golden tooth altrimenti verrà da me anzi spero che venga perché abbiamo bisogno di altri uomini nonostante castel granito sia difesa solo da 450 uomini e nella vecchia versione mi ricordo che c'era moooota più gente e me lo ricordo perché comandai io un assedio per questo lo so non non per c'è nessun motivo strano mi ricordo che feci un assedio feci anche tante foto che si trovano su un vecchio video che si trova sempre sul canale e questo lo so però se dovesse venire anche nel senso di Daenerys a me farebbe comunque un estremo piacere perché poi andremo direttamente a Nannisport dove vieni con me brava che significa vuole attaccare sapete che c'è sono d'accordo non ha effettivamente non ha catapunte miei muri non sono crotte ma non importa abbiamo noi due trabucchi e una catapunte incendiando due trocchi da sedia abbiamo la riete sapete che c'è sono d'accordo attacchiamo castel granito castel granito cadrà oggi in questo nuovo episodio e sono davvero contento perché finalmente ci stiamo avvicinando alla fine dove però purtroppo è la fine quindi io spero davvero che questa serie mi piace mi stia piacendo bruciamo bruciamo tutto vediamo se c'è qualcun altro erano nascosti questi arrivano sul fianco vediamo se Sì! Perfetto! Non ho alcuna speranza! Per madonna! Signori, Castel Granito è nostro! Mamma mia che spettacolare ragazzi! Non abbiamo perso assolutamente niente! È stato... È stato Bang! Ovviamente è Bang! E... Continuiamo! Continuiamo la nostra battaglia! La nostra guerra contro questi bastardoni! E... Diamo tutto ai nostri soldati! Ecco! Lo sapevo che... Non si poteva prendere mo' Castel Granito! Lo sapevo io! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! E quando mai? Fa un c**o! Assegliamo! Ad esempio qua ci vogliono perfonsire tre buchi mi sa! All'inizio! Però con sette giorni di cibo... Io vorrei... Io punto a farmi morire di fame sinceramente! Quanto vanno a... Pensare! Andate a pensare! Io vado a distruggere! Perché se la Garrison non riesce ad andare... A po... A... A pochissimo! Sarebbe veramente buono! Da una parte spero che... L'esercito di Daenerys... Venga da me! Ma se vado a segli altro... A me non è che dispiace! Ah! Da Chris! A me non dispiace! Così magari fai una città e io un'altra! E... E non sarebbe male! E vedete i tre buchi hanno una forza molto importante... Contro le catapunte nemiche! Ma siamo tutti? No! Però ce li danne... Oh cazzo! Però ce li danneggiano! Ce li danneggiano i tre buchi! Certo! Dopo tante catapunte che hanno fatto! Cioè queste saranno... Non so quante cazzo sono! Però... Eh... Comunque... Romponi i coglioni! Un giorno di cibo! Zero giorni di cibo! Vediamo se adesso funziona... La fame! In sé di sì! Ho notato un po' di peggioramento! Un muro è stato distrutto! Ma io continuo! Continuo la sedia! Un altro muro è stato distrutto! Appena arriva a zero la Garrison... Secondo me... Possiamo fare veramente il panico più totale! Ora non escono a far più... Regata tutte come prima! Noi miglioriamo la nostra coesione come esercito! E appena arriva a zero... Attendiamo che si farà giorno... Per poi attaccare! Io faccio così sempre! Avanzo io... Assieme... Agli arcieri... Per distruggere... Il muro nemico... Il muro... Scusate... La porta nemica... ... Si capisce un cazzo. Si capisce un cazzo. Ok. 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 Bene, 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 via, 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 via Ehmadon Fanculo Bene signore Un anni in sport E' caduta E io Sarò il legittimo proprietario Di un anni in sport Spero Sei mio prigioniero Prendi tutti Ho perso qualcuno? Si ho perso qualcuno E prendiamo questi due Perfetto In questo caso prendo tutti Signore Show mercy Non fottetevi Si viene merda Bene Davvero incredibile Siamo riusciti a prendere Un anni in sport Con una facilità E' disarmante Sono molto contento Ma non c'è tempo da prendere Perché dobbiamo difendere Castelro Ancora dobbiamo subito andare Però in clan Partis Dobbiamo capire Ecco qua Ecco qua Castelgranito Per nessun motivo Dobbiamo attaccare Assolutamente Siamo riusciti a prendere Ah! 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 Sì, sì! Ammazza tutti Che poi ho notato che pure che tu usi il fuoco è inutile perchè tanti lordi nemici non muoiono Ma quanti cazzo siete Porca puttana Vabbè Non mi dite che c'è ancora qualcuno per favore Tutti i cazzo Guarda come fai a perdere Sai perchè perdono? Perchè fanno gli assedi a capo di cazzo Ecco perchè perdono questi bastardi Fai silenzio Facciamo st'attacco Dobbiamo andare a salvare i nostri a case Dobbiamo distruggere la città Fate in cazzo che volete Manca più ambuscia che tua mamma Ancora con questi stonzi dell'arpia Già mi stanno sui coglioni nella serie tv Figurati sembra che devo sorbi anche qua Fanculo Vi brucio A tutti vi brucio Che pò do cazzo io ne abbia questi soldati dell'arpia Sti stonzi Anche ora sono curioso veramente Sono genuinamente curioso di sapere dove ne abbiano presi a sti stonzi Perchè non dico che è difficile Però dico sai Boh Cioè Non li ho trovati io che ho adesso Sittavano questi Ce la facciamo Bene Ah ecco perchè Non me ne ero proprio reso conto che ci stavano proprio Coloro che rappresentavano Non mi fa usare il drago volante Che pang Però è pericoloso usarlo Ci provano Ragazzi Dovete far passare No Ok 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 Madonna No No ma fissi mamma te perfetto ok questo anato è pulito quasi circa più o meno non proprio no 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 No! Eh, mannaggia a me! Eh, a madonna, questo è volato questo! No, no, no! Ho pochissima vita! Nooo! Ho capito perché ha perso Denerys. Un sedio in cui ho perso quattrocento uomini. Ho perso... Buon capottana, ho perso quattrocento uomini! Io ammazzerei tutti, voi lo sapete, sì. Io ammazzerei veramente tutti. Ma purtroppo non mi è possibile. Ma se mi fosse possibile... Io non voglio scegliere a chi debba andare. Non mi spetta a me indignito di capire. Io non l'avevo fatto solo per salvare Denerys, ma... Evidentemente... È da qualche altra parte. Non me ne fotte proprio, sinceramente. Questa è l'ultima battaglia. Poi... Basta. Ce la faccio più. No, 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 no! FIRE! FIRE! Dai! Oddio che ho combinato? Dai! Divertitevi! Con molto piacere! Grande! Non possiamo rischiare di perdere Castelganeto! Non avete voluto da me? Che si succede? Un'ottima vittoria! Vittoria avviene voce! Ottimo! Bene! 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 Perfetto! I Nannister sono rimasti con 6 castelli! Quindi noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio che molto probabilmente potrebbe essere l'ultimo!